Musica Martedì 9 giugno, Sant Efrem, è il 160esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 205 alla fine. Il sole sorge alle 5.23 e tramonta alle 21.01, la luna si leva alle 1.12 minuti e tramonta alle 12.51. La Dislao di Napoli a causa del suo bisogno di denaro vende a Venezia per 100.000 fiorini Zara e tutte le città ancora in suo possesso in Dalmazia. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso, precipitazioni in pianura, senti in montagna probabilità bassa. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio o temporale, temperature senza variazioni di rilievo. Musica Musica